ciao ragazzi belli abbiamo trovato in questo nuovo video e vi volevo dire novità sul video il mini movie che farò è uno dei risultati dei contest per appunti provini allora le due vincitrici come si dice delle intro hanno avuto la parte delle due miglior amiche invece un'altra che mi ha chiesto che ho fatto il provino è stata fantastica farà la terza migliore amica perché si ha aggiunto anche un'altra migliore amiche un'altra migliore amica quindi le miglior amiche sono offline perché sono già al completo adesso ci sta serie gacha ufficiale se non so meglio si chiama che farà una migliore amica poi ci sta un'altra che scusate se non mi ricordo i nomi che è una memoria cortissima e poi infine sabella artes art che farà se non sbaglio l'altra migliore amica quindi sono tre migliore amiche che poi vi taggo sempre qui sotto quindi ecco quei aggiornamenti per altri consigli per altre domande iscrivetevi sotto i commenti niente vi adoro